Arrestati i vertici della polizia stradale di Como, è coinvolto anche un funzionario della polizia locale, quindi un vigile. Un'inchiesta che riguarda migliaia di molte sparite, una città che questa mattina si è svegliata scossa da questa notizia. Sì, in effetti la situazione sembra preoccupante e seria, ovviamente non può lasciare indifferenti un'indagine di questo tipo che riguarda forze dello Stato, per cui la preoccupazione e lo sconforto sono abbastanza elevate. Sembra, per le poche notizie che ho ricevuto adesso io dal comando, che il coinvolgimento del corpo di polizia locale sia marginale, me lo auguro che non sia nulla di particolarmente consistente, però il quadro generale comunque è preoccupante.